la classifica è questa mancano solo 4 partite e siamo a 72-65 ormai il campionato di serie B no attenzione raga ho sbagliato cioè quello era così la classifica attenzione perchè siamo a 75-72 possiamo ancora vincere la serie B possiamo ancora farcela dai andiamo parto da sostituto stiamo vincendo 1-0 siamo contro il Frosinone non si sa cosa stiano facendo forse vogliono riprendere gol non lo so attenzione attenzione perchè sono solo ci posso trovare fredde 2-0 finalmente lo chiuso attenzione oh Gesù cosa fa ma non è possibile fare queste cose qui attenzione al Frosinone ma io non so proprio se dire qualcosa o meno perchè è fatto una cosa fuori dal comune proprio non puoi segnare in questo modo qui non puoi segnare in questo modo qui il portiere veramente deve avere un cazzo in culo per muoversi in quel modo attenzione attenzione al Frosinone meno male che ha recuperato palla io ti ho visto eh vedi tu ora cosa fare ma cosa perché attenzione erroraccio della difesa attenzione il portiere salva tutto attenzione la palla è lì io non so che cosa sia successo in quel momento eh non so che cosa sia successo io non so che cosa sia successo sono rotolato con il pallone in mano non lo so boh eh ovviamente ora lanciano un chi si ma no no la potevi crossare ero libero finisce così in parità boh è una cosa assurda è una cosa assurda questa era la partita decisiva se avremmo vinto Palermo Parma attualmente però non si può fare niente più ok ho visto vai avanti così vai avanti così passami la palla ci posso provare Rete Rete queste gol queste gol queste sono le azioni che mi piacciono queste sono le azioni che mi piacciono il giocatore del Parma mi passa praticamente la palla attenzione perché possiamo costruire un'altra azione attenzione ci posso provare 2-0 questa volta l'ho chiusa io guarda che sono solo ci provo 4-0 4-0 attenzione al Parma attenzione al Parma perché ci prova a riaprirla ci prova ma ormai che cazzo vuoi riaprire più però prova a fare il gol della bandiera e ci riesce e ci riesce e vabbè ci vince qua 4-1 al Parma va bene così anche se ormai tipo mancano un paio di partite così non so vediamo la classifica aggiornata 81-76 e mancano due partite il Parma dovrebbe perdere tutte e due è impossibile stiamo vincendo 1-0 contro la Spal entriamo in campo e vediamo che cosa possiamo fare se dobbiamo fare almeno un altro gol non lo so 2-0 2-0 il nostro ha la palla gli salto si prova e cazzo però non mi puoi prendere la palla mentre tiro ogni volta vai vai che questa è buona vai che questa è buona 3-0 3-0 ormai non c'era neanche più fare festa perché la promozione l'abbiamo ottenuta ma purtroppo alla Serie B non siamo riusciti a vingerla oh madonna finisce qui almeno una partita questa è la classifica anche se vinceremo faremo 82 punti così e non riusciremo a recuperare il Parma ormai abbiamo perso la Serie B però siamo in promozione certa siamo automaticamente in Serie A non la gioco nemmeno questa partita tanto ormai è vinta 3-0 3-0 ho fatto pure gol senza avere una giocata però questa è la classifica questa è la classifica a fine campionato 87-82 punti peccato ci siamo andati vicini a vincerle questa Serie B però raga non tutto può andare come ci prescriviamo durante le stagioni le partite non si scrivono ragazzi ci fanno abbiamo un'offerta di trasferimento allo Sporting che noi rifiuteremo perché lo Sporting non ci interessa in genere perché Ajax si offre l'offerta di trasferimento io sono indeciso di accettare con l'Ajax a me come squadra mi piace tantissimo ragazzi cosa faccio? accetto rifiuto cognitivo